Italiano, forse per me la più grande cantante italiana al momento di Musica Soul Miss Daria Biancardi Ci aiuterà anche stasera un'altra eccellente golista che viene da New York e si chiama Miss Tracy Smith Adesso ho l'onore di presentare Miss Tracy Smith in un mio brano che si chiama Blackboard 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.